Individuata per la prima volta l'origine delle formazioni tossiche nel cervello che causano la malattia di Alzheimer. A metterla in luce un gruppo di ricerca italiano in uno studio coordinato da Antonio Cattagno della Scuola Normale Superiore di Pisa e svolto presso l'Ebre, l'Istituto di Ricerca sul Cervello. Lo studio ha consentito di individuare su cellule di Criceto, il sito intracellulare dove cominciano a formarsi le molecole che danno inizio alla patologia. Grazie allo studio, prevedono gli scienziati, in futuro sarà possibile sviluppare un proiettile magico per combattere precocemente la malattia. Gli oligomeri, i protagonisti dello studio, sono specie molecolari tossiche coinvolte in maniera cruciale nei eventi precoci della malattia di Alzheimer. Prima di questo lavoro non si conosceva molto sulla loro formazione intracellulare a causa della mancanza di metodi selettivi per il loro riconoscimento. In futuro sarà possibile colpire precocemente le strutture patologiche nel luogo dove si formano prima che vengano trasportate fuori dalla cellula attraverso sonde molecolari mirate, una sorta di magic bullet che colpisce con alta selettività solo le formazioni tossiche. Grazie mille. Grazie mille.